Ecco, noi godiamo del racconto di una serie di fatti dove vediamo Gesù come si muove, cosa fa, fino a delle decisioni, delle operazioni, delle risposte che dà. Per cui ci possiamo un po' godere la sua strategia. Gesù esce dalla sinagoga, noi abbiamo ascoltato nella domenica precedente, della guarigione dell'uomo affetto dalla possessione di uno spirito impuro. E va alla casa di Simone. E già questo spostamento è piuttosto interessante, cioè noi spostiamo l'azione principale di Dio e del suo Messia dalla sinagoga, cioè da un luogo di ascolto della parola di Dio, a una casa, a una semplice e normale casa. Lo spostamento dalla sinagoga alla casa è uno spostamento storico, è un movimento che corrisponderà proprio all'avvento del cristianesimo, all'uscita dal tempio per andare nella vita reale. Ma questo corrisponde pure al fatto che Gesù sta cercando di entrare in casa nostra. Va nella casa di Simone, va nella casa di noi cristiani, dove lui deve fare delle cose. Ormai il campo d'azione, la battaglia non è nei luoghi, fra virgolette, sagri, ma a casa nostra. Cioè, noi siamo chiamati a vivere l'incontro con Gesù, non su alture strane o in santuari solamente. Certamente, certamente in questi posti si incontra il Dio, si può pregare, si può fare forse con più concentrazione, qualcosa che però non resta là dentro, anzi deve uscire da là dentro. In sostanza, noi abbiamo a che fare con una nuova formula di attività. Non è il luogo che comanda se Dio c'è o non c'è, non è il luogo quello che delimita la sua azione. Ma siamo nel nostro intimo, nella nostra realtà più ordinaria. Va nella casa di Simone e di Andrea e ecco che trova che cosa? Un familiare malato. Una parente di Simone che è a letto con la febbre. Cioè, cosa trova nelle nostre case? Malattie, difficoltà, gente allettata, gente che non si muove, gente bloccata, gente febbricitante, tante persone che stanno in una situazione irrisolta della propria esistenza e subito gli parlano di lei. E questa è la preghiera, è parlare a Gesù di chi ci sta accanto o di noi stessi che stiamo bloccati dalla febbre, che non riusciamo a muoverci, che non riusciamo a schiodare da alcune cose in cui ci siamo un po' fissati. Egli si avvicina e la fece alzare prendendola per la mano. E' interessante notare che nel testo, quando c'è un pleonasmo, questo va rimarcato, prenderla per la mano, la fece alzare, bastava dire la fece alzare, prenderla per la mano. Ecco, allora ne afferra la mano ed è così che la salva. Cioè, ne prende le opere. Noi non guariamo tante volte perché non ci facciamo prendere la mano da Gesù. Che ci deve prendere la mano. Questa è un'espressione che in italiano significa finire per fare quello che l'altro vuole. Mi hai preso la mano, mi sono lasciato prendere la mano. E facciamoci prendere la mano da Gesù Cristo. Facciamo un po' quello che vuole lui. Non c'è niente da fare, non si guarisce finché non si prova un attimino ad obbedire. Farsi prendere la mano, non si fermano le proprie opere nelle mani di Gesù. Finché lui non ce le prende le nostre opere. Ecco, noi stiamo lì con sta febbritta che non se ne va mai. La febbre la lasciò ed ella gli serviva. Il punto è che che lei gli servisse era pleonastico. Bastava dire la febbre la lasciò. Allora che gli servisse era lo scopo di questa azione. Perché? Perché di fatto chi è il guarito? Chi è che sta bene? Chi sa servire? Chi sa prendersi cura di qualcun altro? Perché in questo mondo si divide schematicamente in due tipi di persone. Quelli che hanno bisogno di cure e quelli che curano. Quelli che con la loro vita diventano un pozzo senza fondo di richieste, di bisogni, di appetiti affettivi, relazionali e quelli che finalmente sono guariti. Quindi possono occuparsi degli altri. E non sono più pozzi, ma sorgenti. Non sono più luoghi dove si fagocita la vita, ma luoghi dove scaturisce la vita. Si diviene sorgenti di esistenza. E si può dare. Ecco, questa donna prima doveva essere curata. Adesso si prende cura. Che bella cosa. Che bella immagine. Che cosa meravigliosa. Tutti quanti noi stiamo bene quando serviamo qualcuno. Tutti quanti noi stiamo bene quando ci occupiamo di qualcuno. L'uomo è chiamato la paternità e la maternità. Questa donna che era una suocera, ovvero sia, era una madre esperta, adulta, capace di servizi, non era più capace. Questa è la nostra generazione, una generazione dove, peraltro, gli anziani stanno prendendo un ruolo un po' così, un po' vanesio, senza profondità. Ci sono tanti anziani che passano la vita a fare insulsaggini, a fare cose da quattro soldi. Uno cerca, ma dove sta nonna? E nonna sta facendo il corso de salsa, sta facendo, non si sa che stupidaggine, sta appresso, sta telefonando sei ore al giorno. Gente che non sa più servire. C'è questa immagine adulta, matura, di servizio, di disponibilità, di saggezza, di sicurezza, che negli anziani dobbiamo trovare, dobbiamo saper riscontrare. Ne ha tanto bisogno questo mondo, che poi piano piano sempre più sarà fatto di anziani, di gente che mantenga la propria capacità di servire. Di fatto è reale, che quando è che uno si sente un fallito, quando non serve a nessuno, quando si sente inutile. Ed è questo uno dei problemi anche degli anziani, sentirsi senza grossa utilità, sentire che nessuno ha bisogno di me, allora mi sento veramente fallito. Allora vuol dire che servire è importante, allora dobbiamo prepararci, crescere per diventare persone che sanno prendersi cura, prendersi cura degli altri. La pienezza della vita è la paternità, è la maternità, è la disponibilità a occuparsi della vita altrui. Ecco, questa donna c'è arrivata e da questo viene che cosa? Che arriveranno tanti malati, arriveranno tante altre persone e la casa viene subissata di richieste, di intromissioni e tutta la città è rinita davanti alla porta. E ci sono tanti malati e indemoniati ed ecco che Gesù può mettersi a guarire l'uomo, a prendersi cura delle varie malattie, dei demoni, di tante menzogne che stanno nel cuore delle persone a cui Gesù non permette di parlare, come dice questo testo. Ma che cosa è successo in questo contesto? Che Gesù ha avuto esito, ha avuto successo, è riuscito a fare una cosa meravigliosa, tutti gli vogliono bene adesso. Ed ecco che al mattino presto lui si alza quando è ancora buio e uscito, si ritira in un luogo deserto per pregare. Nessuno lo trova, non sanno come, dove è finito. Eh certo, hanno trovato il santone locale, hanno trovato quello che risolve i problemi, quello che guarisce tutti. E' certo che si mettono sulle sue tracce, quando lo trovano gli dicono, tutti ti cercano. Ecco perché Gesù prega in questo caso qua. Noi dobbiamo registrare che Gesù appare in preghiera sempre nei momenti fondamentali della sua missione. E normalmente quando è tentato. È in preghiera nel deserto, è in preghiera al Gezzemani, è in preghiera prima di leggere i dodici, è in preghiera quando viene cercato per essere fatto re. Quando la sua storia può prendere una direzione sbagliata, quando lui deve essere fedele al piano di Dio, ecco che Gesù è unito al Padre nella preghiera e lui va a pregare. E in questa parola di Pietro risulta patente la tentazione. Tutti ti cercano, hai avuto successo, ce l'hai fatta, sei importante, non sei più uno scuro carpentiere di Galilea. E ma qui arriveranno in tanti a cercarti. Ed egli disse loro, andiamocene, via. Io non sono venuto per fare queste cose qua. Io sono venuto perché io predichi anche in altri posti. Una volta che aveva raggiunto un grande successo, si sottrae a questo successo e parte perché dice, «Per questo sono venuto». Lui non è venuto per fare la sua volontà, ma la volontà del Padre è venuto per compiere una missione meravigliosa. Anche noi dobbiamo saperci guardare molto dalla tentazione del successo, dalla tentazione di stare solamente nelle cose che funzionano e non affrontare più le sfide che la vita ci chiama ad affrontare, a non installarci, a essere capaci di essere stanati dal bene che possiamo fare. Anche noi dobbiamo saperci guardare, a non affrontare più le sfide che funzionano e non affrontare più le sfide. Anche noi dobbiamo saperci guardare, a non affrontare più le sfide che funzionano e non affrontare più le sfide.